a Radio R basket on air Amici di Radio R buon pomeriggio e bentornati a questo dodicesimo appuntamento con basket on air terminato il girone d'andata del campionato di serie A è tempo di bilanci e eh non c'è nessuno meglio del coach della palacanese oregiana Max Menetti per poter tracciare un bilancio non solo della sua squadra ma anche di quello che è capitato in serie A in queste prime quindici giornate quindi do il benvenuto Max Menetti ciao Max buon pomeriggio ciao a tutti eh ed è naturalmente un piacere essere qui con voi e abbiamo preparato un bel protone di esecuzione di domande per te anche perché insieme a me quest'oggi ho due persone che mi fanno compagnia Alessandro Caraffi Alessandro buon pomeriggio ciao buon pomeriggio a tutti in seconda fila praticamente perché qui c'è il pienone e insieme a noi anche Pietro Chierici collaboratore di sportando.com Pietro buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti siamo pronti siamo pronti per questo nuovo appuntamento dicevamo serie A ferma per diciamo al termine del giorno andata per preparare anche quello che sarà lo star game di domani sera a Verona parleremo anche dello star game che doveva essere la partita delle stelle ma in realtà è diventata un po' la partita degli assenti ma al di là di questo è tempo di bilancio Max parlando della palacana storiegiana undici vittorie quattro sconfitte e il miglior record di sempre della palacana storiegiana dove vuole arrivare questa squadra? Beh innanzitutto il record è naturalmente entusiasmante e soprattutto anche alla luce del dell'ultima partita alla luce del di tutti purtroppo la marea di problemi di infortuni che abbiamo avuto in questa fase del campionato dove vogliamo arrivare l'abbiamo sempre detto e cioè quella di continuare nel nostro miglioramento attraverso quella che è una progettualità della società che ha una un'idea ben precisa ecco quindi la soddisfazione è doppia perché all'intilà dell'emergenza raggiungiamo questo obiettivo addirittura nell'annata nel quale giocano di più gli italiani di sempre e dove soprattutto stanno giocando i nostri giovani ecco quindi veramente grande soddisfazione e grande carica ecco più che la soddisfazione è una cosa così no magari anche sull'esterno per noi per quanto ci riguarda è veramente ci ha dato veramente grande entusiasmo e carica e soprattutto come al solito la la direzione no che è quella assolutamente giusta tra l'altro lo scorso anno con 22 punti se non sbaglio Brindisi chiuse al primo posto giro d'andata campione d'inverno e quest'anno chiaramente c'è un fattore in più che è l'Olimpia Milano lo scorso anno è uscita alla distanza perché aveva perso una serie di partite fino all'undicesima giornata poi da lì in anellò una serie che la portò imbattuta fino alla termine della regular season quest'anno è imbattuta proprio dalla partita di Reggio Emilia quindi dalla quinta giornata sono nove le vittorie consecutive dell'Olimpia Milano è un fattore preponderante di questa serie A c'è qualcuno che può accodarsi all'Olimpia Milano o la regular season è una questione che riguarda loro e si gioca per il secondo posto ma innanzitutto il nostro campionato il basket e il basket dei playoff quindi naturalmente la regular season del di Milano faceva più notizia quando purtroppo non riusciva a rompere ad avere la giusta gerarchia rispetto al tipo di roster che aveva quest'anno credo che la continuità tecnica e anche nei giocatori chiavi dell'anno scorso l'abbia portato a trovare continuità nel campionato molto più velocemente però per quanto riguarda tra virgolette la famosa anti Milano credo che conti poco nella regular season e conterà quando quando sarà il momento ecco cioè quando quando arriveranno i playoff tra l'altro punto playoff che azzerano tutto il discorso Pietro ti coinvolgo subito anche perché ne abbiamo parlato spesso di Milano anche quando era venuta qui tra le altre cose lo scorso anno cammino faticoso in regular season in campionato e brillantezza del dell'Olimpia Milano in Eurolega quest'anno le cose sono un po' invertite perché sta facendo molta fatica nelle top 16 si è qualificata a fatica le top 16 dopo il primo girone però in campionato sta dominando e c'è un Akit in più ricordiamo lo diamo questa informazione che ancora non lo sapesse graziato dal presidente Petrucci dal 25 gennaio Akit potrà giocare anche in campionato sì diciamo che la sensazione in campionato delle cose stanno andando molto bene la sensazione però è che ancora a livello di gioco di rotazione e banchi non abbia ancora trovato veramente la quadratura forse diciamo che alcuni giocatori penso a Kleiza ancora insomma non hanno non hanno giocato ancora migliore loro loro basket l'anno scorso il salto in Eurolega gliel'ha fatto fare proprio proprio Akit quest'anno potrebbe essere la stessa cosa sicuramente è un giocatore Daniel che è un grande cioè in questa squadra potrebbe fungere da equilibratore è chiaro che ci sono dei giocatori che devono un pochino modificare il loro gioco penso ad esempio a Brooks che non a caso ha detto proprio che insomma con Akit fa un pochino più fatica a giocare tra l'altro complimenti alla sincerità perché insomma diciamo che non diplomatiche esatto e quindi sotto questo punto di vista secondo me diciamo che più che Akit secondo me è banchi è il vero il diciamo il pezzo che deve fare deve trovare la quadratura perché credo che solamente abbiamo visto giocare l'anno scorso Milano in Eurolega non era questione di singoli era veramente un gruppo che aveva trovato un amalgama di squadra e quello è fondamentale ecco Max ti trovi ad allenare insieme contemporaneamente Akit Gentile e Brooks in una squadra che ha anche una dimensione sotto canezza importante con Samuels e con Cleisa che è un'altra prima donna usi due palloni o tre palloni oppure riesci a trovare la quadratura ma no diciamo che è la dimensione nel quale punta Milano e l'ha provato a fare l'anno scorso cercando di arrivare alle fan al foro comunque nell'essere stabilmente diciamo tra le prime otto del basket europeo ti porta naturalmente a avere roster di questo tipo ecco quindi l'allenatore dell'Olimpia Milano non è che a scampo possa pensare di rifugiarsi nei 25 minuti di Ciarella perché così dopo Akit e un altro una guardia sono più contenti ecco sono equilibri che sono d'accordo che dipendano molto dall'allenatore ma soprattutto dipendono molto dalla voglia di vincere dei giocatori che hanno il roster perché è evidente che fino a quando guardi lo scout o guardi i minuti o guardi i tipi di tiri che ci sono e tutti lo guardano è un problema per l'allenatore nel momento in cui i giocatori decidono che per vincere devono togliersi qualcosa per l'allenatore diventa automaticamente molto facile quindi è uno scatto di mentalità che da un lato naturalmente bisogna trovare le chiavi credo più psicologiche che tecniche da parte dell'allenatore dall'altra parte se non c'è la disponibilità dei giocatori ne abbiamo viste tante e anche a Milano di squadre che hanno naufragato completamente proprio perché ognuno guardava al proprio orticello ecco tra l'altro è un problema se virgolette se il problema si può chiamare che comunque è una questione che riguarda anche Palacanese-Reggiana rispetto al passato perché la Grissimmon ha un roster sicuramente più profondo rispetto al passato già si è parlato in passato minutaggi, numero di minuti giocati, qualità, momenti della partita se è importante partire in quintetto, se è importante finire tutta una serie di questioni che comunque a mio avviso si riducono in un semplice concetto avere un roster più profondo è meglio che averlo invece limitato è un ridotto all'osso sì diciamo che il nostro roster quest'anno è profondo vero nel senso che in questo momento almeno quando lo avremo il nostro roster profondo perché adesso siamo un buon roster equilibrato e parlo nei numeri, non nella qualità per me la qualità è altissima e sono convinto che ancora miglioreremo è vero però credo che la squadra dell'anno scorso ne fu l'esempio ecco, noi l'anno scorso era una squadra che aveva delle difficoltà tecniche prima ancora che caratteriali però l'Euro Challenge aveva zerato praticamente tutto la finale di Euro Challenge ne fu l'esempio nel quale i personalismi non furono cancellati completamente sia a livello tecnico che a livello caratteriale la squadra di quest'anno invece ha di base un progetto tecnico cioè di equilibri tecnici che già nell'ultima partita con Brindisi si sono cominciati a vedere sviluppare quello che ci è mancato fino adesso è la continuità perché tutti i cambiamenti di roster che abbiamo avuto non sono cose che digeriscono in un attimo e dall'altro è la presenza del mix tra giovani e veterani che credo sia molto equilibrato e quindi già c'è un'idea ben precisa ecco, al di là dell'incastrare i giocatori ecco, un conto è incastrare i giocatori un conto è aver costruito già in estate un'idea ben precisa certo, un discorso di su ma Alessandro, tra le altre cose noi ci eravamo lasciati una settimana fa appunto chiedendoci che tipo di Grissinborn avremmo visto a Brindisi la risposta è stata clamorosa più 23, una partita dominata praticamente dal primo al quarantesimo ecco, molti l'hanno sottolineato al di là delle due essenze che ancora persistono ovvero quella di Kaukenas e quella di Darius Labrinovic è l'assetto definitivo della Grissinborn soprattutto è quello pensato in estate dalla società beh, aspetto definitivo no perché manca un giocatore come Darius e penso che Maxi possa confermare quanto sia importante per la profondità del gioco di Reggio nel pitturato certo che la prestazione è stata una prestazione eccellente io non concordo sul fatto che Brindisi abbia affrontato una partita la sua peggior partita stagionale o meglio, forse è vero però così si tolgono meriti a una pallacanestra reggiana che secondo me ha giocato una partita di altissimo spessore soprattutto di concentrazione e di lucidità nel fare le cose che aveva preparato e nel togliere le sicurezze di Brindisi tipo raddoppiare in post tipo far uscire dalla parte dei giocatori come Maze e come Eric per quel poco che gioca insomma, sì il roster stiamo arrivando a quello definitivo ma ancora non c'era quindi la partita di Brindisi si è vinta con i giocatori che hanno fatto tanto fino adesso e questo credo sia una cosa da sottolineare tra l'altro una squadra Max, dimmi tu se è vero che dimostra non solo di trovarsi bene sul campo ma anche di divertirsi e questo forse è il discorso dei giovani di cui parlavi prima hanno dato l'impulso giusto in questo senso ma è una cosa molto importante poi è ovvio che si parla dopo una bella vittoria naturalmente ha tutta una serie di percezioni diverse è evidente che è una squadra che non l'ho mai nascosto al di là dei problemi non dei problemi ma del tipo di lavoro che ci troviamo a fare quotidianamente che è tanto naturalmente perché c'è molto da lavorare è una squadra che ti entusiasma quantomeno nella voglia che ha di venire in palestra e questo poi naturalmente questo entusiasmo si vede anche quando giochiamo è evidente che è una squadra che ha delle caratteristiche particolari perché vivendo di entusiasmo vive anche proprio di cose che entusiasmano quindi non una per tutte naturalmente la parte offensiva però credo che questo entusiasmo porti anche la tanta voglia di lavorare ecco i nostri giovani insieme a dei veterani di un certo livello di un certo tipo portano a questi tipi di risultati ecco poi dopo avremo anche noi spero di no perché ne abbiamo già affrontati anche noi i nostri momenti di flessione però insomma quando si perde si tende molto a guardare la propria prestazione e dopo poi quando si vince bene si tende a dire ma gli avversari erano così sotto tono ecco credo che ci vuole il giusto mix quando si perde bisogna tenere ben presente cosa hanno fatto gli avversari per mettere in difficoltà e allo stesso tempo quando vinci e quando vinci bene tenere ben in vista quello che hai fatto bene tu sul campo per portare a casa la partita siamo in Italia quindi ovviamente questa è la mentalità con cui si commentano le partite Pietro domanda a te e poi giro anche a Max il discorso che tu sei molto attento tra l'altro agli aspetti statistici della pallacanestro comunque un roster non è semplicemente la somma del valore singolo dei singoli giocatori cioè quanto rengono generalmente che tipo di media hanno a rimbalzo è matematica ma non solo matematica perché l'amalgama di un gruppo dipende da altri fattori no no assolutamente sicuramente nel basket è pieno di esempi di giocatori che in un gruppo rendono in un certo modo poi dopo cambiano aria diciamo e invece rendono in maniera completamente diversa Reggio ad esempio credo che possa essere proprio questo caso nel senso che comunque anche vedendo le statistiche diciamo non è fra le squadre che hanno più assist o forzano più palle perse a differenza degli anni scorsi dove invece erano sempre al vertice questa classifica piuttosto che nelle percentuali da tre come potrebbe essere ad esempio Sassari o anche come numero di tiri da tre presi no perché è un altro aspetto che si dice che la palacanestra reggiana tira molto da tre ma ci sono altre squadre che lo fanno Sassari in primis che lo fa e lo fa bene Roma la seconda che lo fa tantissimo lo fa male quindi di conseguenza sicuramente il gioco non vale la candela invece Reggio che appunto non ha dei primati particolari sotto determinati aspetti statistici invece è al vertice insomma fra le prime quattro del campionato e a mio parere gioca anche uno dei migliori basket ecco Max prima di dare la linea allo studio una domanda molto semplice cioè quanto è importante per un allenatore in caso specifico a riuscire a dare un'impronta precisa alla propria squadra ad esempio Pietro citava Sassari e ormai abbiamo capito qual è l'impronta ad esempio che un allenatore come Sacchetti ha dato la squadra ormai da anni nonostante appunto il cambio di roster e nuovi giocatori nuovi anche a Reggio ormai si punta ad avere una identità ben precisa forse quest'anno c'è più talento in attacco però ad esempio la difesa resta uno dei fattori prioritari che tu chiedi ai tuoi giocatori quanto è importante avere questo tipo di struttura ma innanzitutto noi negli ultimi quattro anni partendo dal punto più basso che fu quella salvezza in A2 siamo sempre partiti nella strutturare i nostri i nostri gruppi partendo dalle persone e questo naturalmente ti dà una disponibilità di base rispetto alle richieste tecniche di un certo tipo e credo che questo di quest'anno proprio a livello a questo livello sia il gruppo migliore che abbiamo avuto negli ultimi quattro anni faccio un esempio su tutti la disponibilità e il tipo di persona che è Drake Diner che è stato anche qui a Teletricolore proprio in questi giorni però è molto importante ecco è chiaro che ci sono delle situazioni dove si ha la possibilità di creare dei gruppi già dall'estate che abbiano un'identità mentale che ti porti poi a riuscire a trasmettere quello che sono diciamo poi quelli che sono i caposaldi cestistici degli allenatori che vogliono andare quindi l'intelliatura del basket a volte questo non è non è possibile per tanti motivi noi l'anno scorso è una squadra che per tanti motivi non abbiamo trovato probabilmente quello che era il tipo di chimica che volevamo proprio per questo motivo nel senso che l'arrivo di White a settembre l'arrivo di Kaukenas poi durante la stagione l'arrivo di Gigli poi anche lui durante la stagione il suo infortunio ci sono cose che poi spesso non ti fanno fare ciò che vuoi e quindi naturalmente questo nella nella tua visione della palacanestro è la cosa più difficile da fare quest'anno al di là del tipo di infortuni della catena di infortuni che abbiamo avuto però siamo riusciti a rimanere dentro questa linea e questo credo che sia stata la cosa di successo se tu pensi anche ai due gettoni che sono Shistov che conosceva bene bene la nostra realtà e il fatto che avesse qua il gemello e il fatto del ritorno di Donnella ha dato comunque un filo conduttore al tipo di palacanestro che volevamo fare un dato importante è anche il tipo di palacanestro che ha giocato Taylor nei due mesi che è tornato qui ecco quindi bisogna avere i giocatori giusti per cercare di riuscire a fare la palacanestro che si vuole fare non tutti e non per ultimo anche la serietà che ha Reggio è una cosa che è assolutamente predominante nella scelta dei giocatori Pietro riparto da te per introdurre diciamo questo argomento di questa fase che poi in realtà abbiamo già aperto parlando della nazionale tra l'altro Grissimorio Gemilia che dà tanti giocatori alla nazionale non lo dimentichiamo giocatori per la nazionale A ma anche per le nazionali giovanili e parliamo quindi di italiani in campo e oltretutto cito un tuo articolo che è uscito proprio ieri su sportando.com riguardante diciamo le tendenze del campionato sugli italiani in campo che ci spieghi un secondo e poi chiediamo naturalmente il giudizio a Max io parto col dire che ieri sera ho scoperto che c'era la partita di Datome su YouTube che si possono vedere le partite della D-League in HD ed è stata una cosa fantastica dopo due minuti però purtroppo ho spento perché è veramente a parte Gigi che fra l'altro lo merita perché è veramente a mio parere il leader emotivo di questa nazionale e lo sarà anche gli europei il leader emotivo il leader tecnico invece si scoprirà alle prime partite nel senso chi sarà veramente quello che prenderà la nazionale in mano però veramente noi a volte ci lamentiamo del gioco espresso in Italia io penso che anarchia totale anarchia pura ognuno faceva quello che voleva fondamentalmente è questa la D-League tutti che cercano di mettersi in mostra proprio perché la D-League è una vetrina che può servire eventualmente squadra NBA per mettere in piedi delle operazioni di mercato esatto e niente sugli italiani in campo molto semplicemente la mia curiosità era capire quanto giocano gli italiani su un totale di 100 minuti cioè in percentuale quanti minuti giocano gli italiani e diciamo che negli anni la percentuale è intorno al 20 25 minimo del 20% a un attuale diciamo 25% questo chiaramente vuol dire un italiano in campo un italiano neanche un italiano e mezzo in campo sempre diciamo sicuramente è un dato italiano intendo italiano di nascita quindi no comunitari ovviamente no extracomunitari è un dato che sembra piuttosto basso poi dopo qua ognuno ha la sua parrocchia io personalmente penso che debba giocare chi merita e quindi di conseguenza è giusto gli allenatori non è che vogliono vincere e devono giocare mettere in campo la squadra per vincere però in questo dato 64% palla canestra reggiana e quindi chiedo Max la scelta ha andato una domanda sono due domande la prima è l'aver trovato giocatori come Amedeo e Federico che ti hanno dato tanto fin da subito vuoi per infortuni vuoi per meriti reali penso che nessuno di voi nella più rosa delle previsioni se lo sarebbe mai aspettato due quando è nata questa idea di dare così di scegliere il pacchetto italiano più per allenabilità anche per questioni tecniche immagino o proprio solo per un discorso di avere degli uomini e un'allenabilità migliore del roster ma diciamo che è un discorso veramente macro per quanto riguarda noi e che qual è la grande allora innanzitutto è il numero di minuti perché è evidente che quando sei al 64% del vintaggio degli italiani quando la media è intorno al 20% è ovvio che vuol dire che hai due terzi in più di quello che giocano gli altri c'è una questione filosofica di base ecco perché credo che in tutti gli altri casi o nella maggior parte degli altri casi la scelta degli italiani sia A assolutamente casuale rispetto alle opportunità di mercato oppure B derivate dal fatto di dover mettere nel roster degli italiani che spesso sono assolutamente di contorno rispetto al classico quintetto di 5 americani qui invece c'è una filosofia una filosofia che parte dal settore giovanile ed è un un lavoro di sempre di Parca Nestoregiana ma è un fiore all'occhiello di Stefano Landi perché è uno che in tutti gli anni ha voluto continuare a investire e soprattutto ha il gusto e il piacere di vedere i suoi ragazzi in campo quindi parallelamente poi il fatto che noi abbiamo aumentato il nostro livello e cioè che grazie anche ai grandi successi siamo riusciti anche oltre ai ragazzi che nascevano dal nostro strato giovanile a reclutare anche italiani importanti durante la stagione uno su tutti è Cinciarini non dimentichiamolo che comunque è arrivato a Reggio che aveva 25 anni e da un'annata particolare a Cantù un altro è Amedeo della Valle e poi stiamo continuando e adesso stiamo anche lo sta facendo Andrea Menozzi insieme a Alessandro Frosini questa grande visibilità ci sta anche aiutando moltissimo con il reclutamento invece nei gruppi veramente molto piccoli Strautis è un sedicenne che Andrea ha trovato in Lettonia e di cui sentiremo parlare ecco quindi credo che c'è un discorso casuale rispetto a determinate squadre e c'è un discorso invece di programmazione e soprattutto di progettualità che è quella che invece sta facendo Reggio Emilia al di là dello staff che ha il piacere invece di avere di allenare i giocatori italiani ecco perché io credo che comunque sia un valore aggiunto importante tra l'altro ricordiamo che Palacanestra Reggiana sta lavorando costantemente sul reclutamento e mi pare che ci stiano aprendo nuovi mercati tipo quello dell'Africa tipo altri giocatori dall'est che tra poi mi pare che arrivi a un altro giocatore dall'est insomma è un lavoro costante continuo Arthur Strauntins me ne sarete accorti avete visto poco a caso mai chi non è riuscito mai a vederlo nelle giovanili sabato sera Brindisi è un giocatore di assoluto talento mi viene in mente un giocatore come Stefanini che ha già fatto dei campi importanti tipo l'Eurocamp di Treviso insomma Palacanestra Reggiana da questo punto di vista ha una progettualità che anche altre squadre gli hanno riconosciuto perché Coach Bucchi una settimana fa in serie di prepartita ha detto Reggio ha fatto qualcosa negli ultimi dieci anni che poche hanno fatto e adesso ovviamente ne trai vantaggi insomma ricordiamo anche Riccardo Cervi Giovanni Pini insomma tutti i giocatori che adesso stanno dando tanto ecco Max a proposito io rimango sugli italiani e voglio entrare un pochino magari sui singoli mi dispiace sinceramente ti volevo parlare di fare una domanda su Riccardo Cervi mi dispiace farti questa domanda in questa settimana dove il Riccardo Cervi fan club si è molto ingrandito proprio dovuto al fatto che contro Brindisi che era probabilmente la peggiore squadra per un giocatore tipo Riccardo Cervi lui ha fatto una partita sensazionale io ti volevo chiedere ti volevo chiedere questo il visto che insomma a Riccardo Cervi vengono chiesti vengono chiesti sempre tantissimi miglioramenti sia dai tifosi della parecchia storiologiana ma anche da quelli della nazionale perché chiaramente è nel giro i grandi passi avanti degli ultimi due anni e mezzo più che chiedere quello che lui dovrebbe fare per diventare il nuovo team Duncan pensiamo ai passi avanti che ha fatto negli ultimi anni e mezzo e vado nello specifico oltre a la percentuale dei liberi passare dal 40 al 70 80% che già questo non è facile però io penso anche a diciamo un inizio di movimento in post basso un inizio di tiro dalla media penso anche ad esempio agli alley-oop nei primi anni lui faceva alley-oop verticali cioè era sotto canestro saltava invece da quest'anno si iniziano a vedere degli alley-oop anche orizzontali e verticali cioè in movimento che sono quelli che la difesa chiaramente ti lascia quelli verticali te ne lascia uno ogni tre partite ovviamente togliti un attimo la casacca dell'allenatore che vuole sempre qualcosa e non dirmi quello che vuoi da Riccardo Cervi che gli chiedi ogni giorno in allenamento ma quello che lui veramente ti ha fatto e ti ha sorpreso in questo periodo ma innanzitutto per Riccardo non è neanche facile ci sono grandi aspettativi su di lui parlo a livello nazionale anche a Reggio e in più lui insieme a me e insieme a Federico è di qua è reggiano abita qua vive qui è nato qui e questo è da un lato ti dà la possibilità di avere delle basi d'appoggio solide dall'altro invece si aspetta sempre quasi qualcosa di più rispetto ad altri giocatori Riccardo ha fatto oggettivamente ecco faccio uno dei suoi giochini dei passi da gigante sarà fiero di me ci si aspetta veramente tanto da lui perché fa intravedere che potrebbe fare delle cose veramente importanti con grande continuità non dimentichiamo però che ha 23 anni adesso non mi ricordo se lui ne ha già compiuti 24 è un giocatore che si è avvicinato alla palacanestro tardi che ha avuto una maturazione fisica particolare con anche tanti problemi perché lui in un momento negli ultimi 2-3 anni ha trovato una certa continuità ma quando era giovane ha avuto tanti problemi queste sono tutte cose che che valorizzano quello che lui ha fatto fino a questo momento la sua sfortuna è che fa vedere cose talmente belle che ogni tanto te le aspetti sempre con continuità nella continuità credo che lui abbia migliorato molto credo che lui adesso abbia ben presente il percorso che personalmente vuole fare e quindi si è unito a tutto una certa ambizione questo credo che si veda anche nel suo modo di giocare anche dovuto i problemi che ci sono nel rosto non sono solo degli allenatori nelle rotazioni ma ci sono che nel momento in cui pensi a una squadra uno dirà vabbè il fatto che lui non ci fosse Lavrinovic per lui è stato un grande giovamento e invece è stato anche un momento dove lui si è trovato spesso ad avere il reparto molto sulle sue spalle non dimentichiamo lo dico sempre è una battuta ma al di là di Cinciarini Kaukenes che in questo momento non c'è Lavrinovic che non c'è ed Iner che c'è lui è il nostro terzo veterano e non sono cose semplici e credo che lui abbia risposto bene rispetto anche a un livello lui praticamente per metà campionato in A2 parlo di tre anni e mezzo fa quasi quattro stava avendo molto poco spazio lui in tre anni e mezzo si è trovato come tutti noi al massimo livello europeo e italiano ecco quindi questo per me credo che per lui si è avuto di grande soddisfazione è chiaro che quando uno fa vedere delle cose belle dopo si le aspetta con continuità e soprattutto si aspetta sempre di più ecco però mi piace l'impostazione ogni tanto non di guardare sempre avanti ma di guardarsi indietro ecco se lo facessimo noi reggiani noi della paracanestro reggiana non parlo di staff ma tutto l'ambiente ogni tanto si girasse indietro e comincia a vedere Sant'Anti Moveroli comincia a vedere Scafati comincia a vedere queste cose qui e dopo quando perdi l'ultimo secondo dallo Strasburgo dopo insomma Max io non ti chiedo di vestire i panni del presidente federale perché quelli dell'allenatore di Paracanestro reggiana ti stanno bene e sono sicuramente anche più comodi credo si sono stretti per questioni di chili però non per questioni e io però ti chiedo ti faccio una domanda si parlava di italiani si insiste su questo tasto ma la chiave invece per risolvere questo problema per comunque dargli una scossa non dovrebbero essere o non potrebbero essere proprio i settori giovanili cioè riuscire a incentivare ancora di più i settori giovanili non solo perché Paracanestro reggiana è una squadra che ha investito molto sugli italiani ma perché poi è una squadra che invece gli italiani li ha creati in palestra a partire dai settori giovanili ma io andrei ancora prima e torniamo alla fortuna di lavorare qua a Reggio e la fortuna e soprattutto il livello del nostro proprietario che è l'anno il problema non sono i settori giovanili sono le società e soprattutto è una cosa anche credo slegata dalle volontà di Petrucci ecco negli ultimi anni la verità è che è una lega molto slegata e lo si vede anche dalle piccole cose ecco stiamo parlando i temi sono sempre legati a delle scaramucce legate molto al proprio orticello all'americano in più o all'americano in meno al fatto di andare in televisione una volta una volta e mezzo al fatto di voler l'anticipo di non voler l'anticipo al fatto che hai l'anticipo e allora hai un giorno in meno per preparare le partite ecco i temi della lega sono spesso questi tralasciando quelli invece derivanti dal fatto di tutti i disastri a livello economico che purtroppo ci sono in giro ecco quindi secondo me il tema non è il settore giovanile il tema è molto è a monte ed arriva dal credo dal fatto che molte delle società di serie A debbano e vogliano probabilmente navigare a vista ecco quindi questo è il grosso problema il fatto che ci sia una lega così sfilacciata credo che porti al fatto di avere naturalmente molta poca appeal su quello che invece si dovrebbe essere a livello politico sulla federazione credo che oggettivamente è una lega che in questo momento se anche non ci fosse probabilmente rimanessimo sui servizi che ti offre la FIP legati all'organizzazione delle partite probabilmente ecco cambierebbe molto poco anzi devo dire la verità se ci fosse solo una testa che comanda e avesse fosse autorizzata dalla posizione data dalla federazione probabilmente le cose andrebbero molto meglio ecco tra l'altro la scorsa estate si era fatto il nome come presidente di Lega Basket proprio di Landi con Alessandro Dalla Salda eventualmente come dirigente esecutivo secondo te avrebbero potuto portare risultati oppure anche qui è un discorso del fatto che chiunque metti se non c'è un accordo tra i club ovvero la volontà dei club di far funzionare la Lega non riesce comunque a portare risultati ma la verità è che Landi ne ha parlato più volte il suo coinvolgimento fu fatto dai giornali nei nomi ma nessuno credo quello coinvolse veramente anche credo l'unica cosa che hai detto di cui ho dubbi è che un imprenditore come Landi nel momento in cui avesse deciso di intervenire a questi livelli primo non avrebbe mai tolto una risorsa un pilastro come Alessandro Dalla Pallacanestro Eggiana perché sa benissimo cosa vuol dire Alessandro Dalla Salda per la Pallacanestro Eggiana credo in altro modo che avrebbe fatto questo tipo di lavoro di sicuro Landi non si sarebbe occupato dei posticipi o di se giocare alle 20 o alle 20.15 seppure le maglie andavano rosse o gialle perché purtroppo i temi non sto parlando del Presidente Marino ma parlo dei temi che leggiamo tutti i giorni sui giornali è evidente che Landi avrebbe avuto un tipo di Landi ha un tipo di organizzazione che deriva dalla Landi-Renzo nessuno lo sa ma la Pallacanestro Eggiana è un ramo della Landi-Renzo è società quotata in borsa di sicuro avrebbe fatto molto bene al basket italiano credo che quello che stavo dicendo prima della situazione attuale il fatto che nel momento in cui ci fosse stato la possibilità di avere la disponibilità di un imprenditore e di una persona come Landi e alla fine non si sia cavalcato fino in fondo rende l'idea degli interessi di giardinetto o di orto di cui stavo parlando tra l'altro Alessandro io quest'estate ero molto contento della notizia non tanto per con tutto il rispetto per Landi e dalla salda ma perché proprio per l'idea di Landi cioè un'idea imprenditoriale cioè cosa fa l'imprenditore in un'azienda come prima cosa o un consiglio dell'amministrazione come prima cosa nomina un direttore generale che diciamo il direttore generale poi dopo decide in toto qualsiasi cosa decide lui l'impostazione e dopo risponde davanti al consiglio dell'amministrazione eventualmente se il suo lavoro è stato buono o no invece l'impostazione di adesso come diceva Max prima è invece opposta cioè un presidente che è prestato alla Lega e che deve decidere tutto lui questa è un'impostazione senza che però abbia lo spazio per poter poi riuscire a fare le cose cioè decide tutto lui ma in realtà non è vero lui propone decidono 16 club che hanno una visione molto diversa questa visione collegiale nelle aziende se lo sappiamo non funziona cioè non è che non è che non funziona nel basket non funziona in qualsiasi ambito invece diciamo l'ipotesi appunto di Landy poi dopo anche lui chiaramente non ha spiegato cioè non si è visto quello che avrei voluto fare ma la prima cosa era mettiamo qualcuno come io come lui nella sua azienda ha chiaramente i responsabili e dopo ai responsabili poi dopo si chiede il conto del lavoro se si decide in 16 si sbaglia in 16 vuol dire che non sbaglia nessuno esatto questa è però la responsabile Alessandro il problema sì questa è la parola responsabile però Max complimenti per questo discorso perché mi è piaciuto molto sulla Lega finalmente no perché spesso si dice ma vediamo come andrà come non andrà sì ma però effettivamente questa Lega non funziona e insomma che un uomo del basket dell'interno lo dica è assolutamente una cosa una cosa meritevole cambio demetralmente argomento però ne approfittiamo per averti qui ci dai qualche novità su Kaukenas e Dario Slavrinovic le hai? sì Kaukenas speriamo di essere in fondo al tunnel lui dice per la prima settimana da martedì dice di non avvertire più dolore anzi adesso è scalpitante come potete immaginare perché naturalmente è un momento stesso in cui il dolore gli esplode capita ai giovani di scalpitare sì esatto soprattutto anzi questa settimana in questi giorni abbiamo dovuto un attimo tenerlo fermo perché avrà l'ultimo controllo lunedì e se tutto andrà bene da martedì sarà in palestra di nuovo con noi al 100% e quindi la notizia è che l'avremo a disposizione di nuovo contro Trento Lavrinovic sta andando bene anche oggi il professor Tibiletti seppur adesso così vi ridiamo un po' perché siamo troppo seri allora siccome il focus è spostato dopo aver fatto tutto il giro dei giocatori adesso è l'ora che si faccia male qualcuno dello staff ieri Mussini mentre faceva dei pesi ha lasciato un bel peso da 10 kg grazie a Dior a Mussini perché naturalmente Mussini tira su dei grissini ed è andato sull'alluce del povero Tibiletti che si è frantumato e quindi nonostante questo comunque oggi sarà Siena per seguire il lavoro che sta facendo Darius che però è in linea se non addirittura con qualche giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia sta lavorando come un pazzo naturalmente perché credo che lui abbia tutta la voglia finalmente di farsi vedere da tutti noi non solo dei tifosi ma anche dello staff e anche tuoi voglia di vederlo finalmente in la tua squadra immagino assolutamente sì perché è così perché poi ha dimostrato in questi mesi di essere un personaggio di alto livello il fatto che lui abbia preso determinate decisioni sotto l'aspetto contrattuale in questo periodo è sintomo del fatto che ha fatto una scelta ben precisa e il fatto che lui abbia anche percepito che la progettualità e soprattutto le cose belle che gli avevano detto su Reggio Emilia le sta provando sullo suo penne vedendo come va la squadra credo che lì dia ancora più voglia di tornare in campo non vorrete mica vincere senza di me esatto credo di sì Max l'ultima parte abbiamo preparato alcune domande ne abbiamo preparate 4 se riusciamo le facciamo se riusciamo a essere concise altrimenti ne tagliamo sono domande abbastanza ovviamente alcune serie alcune sul serio il faceto per drammatizzare chiudere un po' il finale di trasmissione la prima è ti chiedo qual è il tuo quintetto ideale degli ultimi 3 anni però di giocatori che non hai allenato ah grande così ti evitiamo qualsiasi tipo di beh sarebbe stato abbastanza scontato però se ci pensate beh non è semplicissimo allora pensiamo un po' avrei bisogno di un po' di tempo ma il bello appunto è che devi farlo a freddo farlo a freddo non è semplice pensando alle squadre che abbiamo anche incontrato o di giocatori che magari ci piacevano e poi non siamo riusciti a prendere 3 anni hai detto allora vado contro tendenza il playmaker è Dan Ward Robinson perché hai detto 3 anni giusto quindi lui non c'era la guardia dai facciamo un tiratore nella sua eccezione facciamo Jimmy Barron parlo di tecnica quindi non conosco i personaggi non conosco niente nel numero 3 sarebbe bello aver avuto un atleta mettiamo Malick Airston ok nel numero 4 nel numero 4 nel numero 4 sarebbe stato bello conoscere Spencer Nelson soprattutto per le sue doti umane perché è un giocatore che avevo sempre visto alle Summer League e numero 5 dai ho messo un sacco di gente di Siena e numero 5 ne mettiamo due mettiamo Hunter del Siena dell'anno scorso e Mbacque che mi ha impressionato sia l'anno scorso che quest'anno però due mi pare uno da War Rob che sono quasi avuto l'altro Airston diciamo che l'avete cercato sì c'è stata c'è stata anche un'opportunità quindi bene l'altra domanda è il momento in cui ti sei arrabbiato di più con un tuo giocatore ma allora una partita in particolare quest'anno nel primo quarto con Saragozza seppur rivedendo anche quella partita lì ci sono state tante cose che poi ci hanno portato ad avere quei primi due quarti quel primo quarto che abbiamo avuto la più volta mi sono arrabbiato di più con un giocatore ma sai non sono uno che si arrabbia poi che perde la testa facilmente ecco quindi non hai preso da Lombardi no beh ma sai poi Dado era si arrabbiava ma con una con una tetralità e con un istinto rispetto a quello che doveva richiedere i giocatori che 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 unico al mondo quindi non è scimmiotabile Dado mi ricordo due anni fa a Cantù mi ricordo anzi l'anno scorso a Cantù poi insomma però con un giocatore è difficile cioè non mi ricordo un episodio particolare ecco a Cantù ricordiamo l'anno scorso una partita forse tra le più deludenti del giorno dell'andata di Reggio dove proprio si è visto poco quello che Reggio poteva dare assolutamente ti faccio l'ultima perché secondo me è carina è interessante se devi scegliere il momento più commuovente sempre a freddo salvezza contro Veroli o Vittorio Neuro Challenge assolutamente salvezza contro Veroli immaginavo che avessi risposto ma perché era troppo pieno di tanti significati eravamo quando 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 ti vedi praticamente morto e poi dopo sei di nuovo vivo riassapori il fatto di sei che sai quelli che capita un un incidente o capita di quando si dice ho rivisto tutta la mia vita davanti agli occhi ma soprattutto da lì in poi riassapori tutto quello che è la quotidianità e credo che sia un percorso che ha fatto tutta Reggio ecco al di là abbiamo passato un periodo dove vivevamo di ricordi e non andava più bene niente quando ci siamo trovati alla possibilità di di dover giocare con il 100 con tutto rispetto per il 100 naturalmente o di essere a una categoria dal Castelnuovo sotto ecco allora dopo ricominci a rivedere davanti agli occhi e comincia a ripiacerti tutto ecco quindi poi per quanto mi riguarda me naturalmente con quello che era successo con la retrocessione ecco però assolutamente sì diciamo che l'Euro Challenge è stata una grande gioia seppur incastrato in una stagione tutto sommato difficile soprattutto noi domenica eravamo avvenuti all'Euro Challenge eravamo col telefonino a vedere cosa facevano gli avversari perché dovevamo entrare nei playoff ecco questo è l'unica cosa brutta ecco se fosse arrivata la fine della stagione l'Euro Challenge naturalmente ti dà una una percezione completamente diversa ecco Max naturalmente noi speriamo di aggiornare presto i momenti più commuoventi assolutamente sì a cominciare da questa Final 8 importante che attende Palacanese Oregiano dal 20 al 22 febbraio si è saputa qual è l'avversario che è l'Aquila Trento che tra le altre cose affronterete nella prima giornata di ritorno nel 25 di gennaio quindi speriamo chiaramente di aggiornare con questo primo capitolo e poi chiaramente in questa stagione che è tutta ancora da scrivere ma sì la Final 8 oggi ho letto con interesse un'intervista ad Alessandro oggettivamente è una bella sfida per noi perché negli anni scorsi ci arrivavamo con leggerezza ma dovevamo arrivarci con leggerezza quest'anno dovremmo esserci dovremmo essere bravo e in questo dovremmo essere molto bravo soprattutto noi ma anche l'ambiente ad arrivarci con una leggerezza ma con una leggerezza emotiva nel senso che dovremmo arrivarci con grande leggerezza perché è la cosa predominante per poter andare avanti perché nel momento in cui la giochi ti autocarichi di pressioni su delle partite sì ma tante altre squadre se uno pensa al nostro quarto di finale con Cantuna l'anno scorso naturalmente dice tutto e quindi dovremmo arrivarci con una leggerezza ambiziosa mi piace dire ecco non è facile ma credo che abbiamo le carte per poterlo fare Trento è un avversario tosto ecco è la vera sorpresa di quest'anno è una squadra molto simile a noi il primo anno parlo di quella del primo anno di A1 e quindi comunque sarà difficile domenica e sarà difficile anche le final eight però credo che al di là del fatto che Desio sia un po' più di lontano da Milano e anche su questo ci sarebbe dato ok no ma quello che penso io totalmente però credo che la carovana finalmente si ricomporrà ancora la carovana bianco-rossa e per questo noi sarà molto importante